Questo sindaco è ritenuto da tempo il principale avversario della nostra città. C'è un equivoco di fondo nel dibattito politico in corso sulle vicende del governo cittadino che andrebbe celermente sgomberato. Trasparece da alcune dichiarazioni del sindaco o dalle domande poste che i suoi oderni oppositori politici quasi quasi invochino ossiano alla ricerca di un dialogo con colui che amministra male la città nell'ipotesi di possibili future alleanze. Come è stato più volte chiarito e argomentato appare fin troppo evidente che le primarie forze politiche già a sostegno di Italia, PD e Italia Viva in primis non solo ne hanno preso pesantemente le distanze ma da molto tempo viene dalle stesse forze manifestato un grave senso di rigetto verso un ipotetico ritorno di fiamma sia nei confronti della sua azione amministrativa sia verso un'eventuale sua auto ricandidatura alla carica di primo cittadino. Una buttada addirittura l'ha definita l'ex sindaco Garozzo, oggi leader di Italia Viva. E' sin troppo evidente altresì che da parte del centrodestra mai e poi mai potrebbe pervenire alcuna ancora di salvezza per chi in pochi anni ha relegato la città agli ultimi posti in tutte le classifiche sulla qualità della vita. Ed è infatti per tali e altre ragioni che spesso e volentieri siamo soliti dialogare e magari prendere un caffè con gli avversari politici di questo sindaco ritenendolo da tempo il principale avversario della nostra città. E' quanto espone Bruno Alicata, commissario provinciale di Forza Italia.